Un bilaggio ben oltre le previsioni con un numero di somministrazioni che ha superato quelle delle prenotazioni. Secondo la ASL, l'open day di ieri riservato la vaccinazione AstraZeneca contro il covid a persone over 60 senza patologie gravi, in provincia dell'Aquila ha avuto una larga adesione della popolazione che si è presentata numerosa ai 7 punti vaccinali della ASL per farsi inoculare la protezione. Numeri più bassi si sono però registrati in centro Abruzzo. 170 le dosi inoculate a Sulmona, 119 a Pratola, 120 a Casteldisangro. In 43 in città si sono presentati all'ultimo minuto tutti over 60 per cui dopo la disposizione dello stop ai panchinari non autorizzati nessun problema si è presentato per somministrare la dose. Certo nel centro Abruzzo le dosi inoculati sono comunque inferiori a quelle messe a disposizione ma si sa che il vaccino AstraZeneca quando non viene aperto ha tempi di conservazione diverso rispetto alle altre tipologie. Complessivamente nella giornata di ieri le dossi di AstraZeneca somministrate sono state 1.750, 300 in più rispetto alle prenotazioni effettuate nella provincia dell'Aquila. È un risultato rilevante, dichiara il manager Roberto Testa, perché la popolazione interessata ha risposto molto bene all'invito a vaccinarsi, dimostrando sensibilità sulla necessità di mettere insieme gli sforzi di ciascuno per cercare di alzare sempre di più la soglia dell'immunità collettiva, la cosiddetta immunità di gregge. L'alto numero di dossi somministrate è dovuto all'impegno dei servizi della prevenzione della ASL, dei medici di famiglia dei comuni che con il loro prezioso apporto logistico hanno dato un contributo fondamentale.